Ciao a tutti ragazzi, qui ErmagnificoRomantotto e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft The Fapper Siamo quest'oggi nell'episodio numero 31, credo, sì Sì, oggi siamo nell'episodio numero 31 E in questo video su internet, perché faccio partire subito il timer Siamo nell'episodio numero 31, credo, di Minecraft The Fapper, sì E quest'oggi volevo fare una piccola farm, perché è da tanto tempo che non faccio farm E appunto volevo farlo, in questo momento sto upando l'episodio numero 30 Quindi se notate tipo un po' di lag è a causa dell'upload dei file Quindi volevo tipo fare una cosa del genere Oddio Perché c'è sto buco? Vabbè Ok, non troppo grande magari Notate la velocità della palla, devo tipo fare a click singoli perché altrimenti mi devasta tutto Ok, qui volevo mettere della cobblestone intorno Appunto come ho fatto la farm qui di fianco Qui ci possiamo mettere benissimo questo Perfetto Quindi, allora, qui possiamo fare così No, 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 no Ok, ok Perfetto Distruggiamo tutto Guardate, mamma mia Quanto è bella sta palla Ma quanto è figa Guardando quanta dirt ho preso, mamma mia Allora Qui No, 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 no Devo farla giusto di un blocco più grande Quindi direi di farla qui Anche se non so come posso venire proprio attaccata alla Oppure la facciamo proprio tutto attaccata a questa Così non dà neanche tanto fastidio Perché tanto sono delle farm attaccate Qual è il problema? Ok, quindi Facciamo così Adesso notiamo questi piccoli momenti di lag Ok, qui possiamo lasciare così Giusto Sì Ovviamente dobbiamo chiudere Prendiamo un po' di dirt Bam Morto Boom, boom Ok Ok Sì, devo fare così Perfetto E qui appunto Levo Piantare I cactus Ok Però anzi Con questo si rompe subito il cactus Con questo si rompe il cabo Rompiamo la mano Bu Con questo si rompe velocemente il cactus Ho sbagliato a piantarli subito Perché prima dovevo fare una cosa Dai su Questa farm vorrei che fosse appunto automatica Il centro di questa farm è questo Quindi Qui sotto Potremmo fare tipo una cosa di questo tipo No No, 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 no Dobbiamo scendere di un gradino Ok Ok Abbiamo trovato il punto centrale Qui dovremmo mettere Poi in caso Facciamo che ne so Un piccolo muretto con Del Della clay verde Stavo pensando Ci servono degli op Sì, ne abbiamo già sei No, poi Ne servono Dobbò Io Li portiamoli tutti Ne lasciamo solo uno Poi mi serve Una chest Non penso di riempire Due chest Perfetto Ok Andiamo qui Facciamo Aspetta Dobbiamo prendere la nostra chest Metterla qui Andare qui Prendere l'hopper Fare così Ok Perfetto Quindi ora ci serve solamente Ci servono solamente Due secchi di acqua All'incirca È una farm che non sto copiando Da nessuno Poi se qualcuno l'ha fatta così Ok Bravo Però io Premetto che non l'ho presa Da nessuno Cioè Di mia invenzione Cioè di mia invenzione No Che è fatta Secondo Le mie idee Quindi Uno Due Perfetto Scusate un secondo Ok Ci siamo Mangiamo un pochino Dormito intanto Ok Intanto il cane entra in camera mia Brutalmente Quindi Allora Sì Andiamo qui Facciamo Una bella fonte Di Acqua Infinita Ok Un attimo qui Qui Poi prendiamo di nuovo Ok Ok E facciamo così Però qui non va Quindi ci possiamo mettere anche un'altra secchiata d'acqua Tanto basta che tutta Basta che l'acqua va lì insomma Un attimo Ok Ok Allora Siamo qui Ehm Oddio Qui ho diventato un blocco Ok Ho fatto questo Cosa perché? Perché L'ho aggiustato E l'ho anche allargato Di due blocchi Ehm In questo modo Venivano dispari i numeri Ed Essendo dispari Essendo dispari Ehm Tutto mettendo qui sette blocchi Avendo un reggio azione Sette blocchi Arrivano perfettamente qui Come vedete Entrano Perfettamente nell'hopper Ed entrano qui Ora non so se ha finito Credo di sì Vediamo Dovrebbe aver finito Controlliamo un attimo Sì Perfetto Quindi Al posto di questi qui Questi spazi vuoti Che ho lasciato Ok Intanto qui la cobblestone La mettiamo a posto No Ok Ci mettiamo Del Glowstone lamp Ok Penso che 19 basti No Penso Credo proprio di sì No Dobbiamo saltare qui Ok Quindi Proprio Qui dobbiamo Mettere Le lamp Non lamp Le glowstone Block Perfetto Non ne mancano Giusti due Quindi li prendiamo subito 1,2,3,4,5,6,7,8 Perfetto Facciamo Due Blocchi di glowstone Abbiamo qui Noi mettiamo uno qui E uno qui Quindi ora con la nostra pala overpower Distruggiamo tutto Ecco Sperando di non fare questo Dio La cobblestone è tipo il vetro Si rompe molto Ma molto Ma molto Ma molto Facilmente Non dobbiamo distruggerli Così Tutti questi Ok Perfetto Dando i nostri soliti cali di frame rate Ci accompagnano perennemente Aspettiamo questo blocco Quest'altro Andiamo a prendere tutta La cacca che c'è qui sotto Ok Sette Perfetto Inoltre qui Metterei Questo Così io Allora Ascolto un attimo Facciamo anche un po' di abbellire Tutto questo No Facciamo tutto quanto send Cioè Può venire carina Tanto perché Lug Vabbè Fa nulla Ok Quindi mettiamo tutta sabbia Tutta sabbia Tutta send Ok Facciamo tutta send Fino a qui Ok Quindi qua rompiamo Tanto ne abbiamo Tanto ne abbiamo Tanta Non so perché mi è venuta St'idea Della sed Boh Non lo so Credo possa sembrare Sovvenire qualcosa Di carino Torce ne abbiamo No Direi di Farne una subito Così tanto per 234 Ok Facciamo un blocco Di glowstone Andiamo qui Facciamo un buco qui Pum E abbiamo la luce Perfetto Così possiamo aprire Tutto Perfetto Ora ci manca Solamienzie Da Piazzare i cactus Che noi sappiamo Che i cactus Crescono di terreno Quindi Quando io Ehm Quando il cactus Sale Cioè arriva al terzo blocco Noi sappiamo anche che Quando al terzo blocco C'è qualche blocco A fianco Il blocco si rompe Perché si è entrato lì Vabbè Il blocco si rompe Automaticamente Quindi questa farm Potremmo dire che È operativa Ora qui Non lo so Mmm Così tanto per Stonare un po' Quindi Io spero che questo Episodio Barra tutorial Vi sia piaciuto E state così Lasciate un like Un commentino Lasciate un like Anche alla pagina di facebook Che come in ogni video Trovate sempre in descrizione In descrizione trovate anche Il link della Della mia partnership Cioè freedom Ehm Però sto pensando anche Di cambiarlo Mentre Questo periodo estivo Non lo faccio Penso che lo farò Per settembre Se le visual E gli iscritti crescono Credo che cambierò Partnership Perché Mi è stato consigliato Da moltissimi utenti E anche da molti amici mie Di Lasciare freedom Ehm Anche se ci vuole un mese Per aspettare però Mo Per questo mese Voglio vedere come va Poi In caso La cambierò Quindi Il mio nome è come sempre Magnifico98 Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti